I pericoli della rete. Non lasciamo i nostri figli soli. Un titolo da mille sfumature è quello che accompagnerà da giovedì 9 febbraio una serie di appuntamenti rivolti ai genitori dei cosiddetti nativi digitali, per disporre degli strumenti più adeguati da mettere in campo. Quello che andrà in scena nella biblioteca Braille di Baia Flaminia alle 20.45 sarà l'occasione per i volontari esperti di Stiulpe e Unicef di dialogare su una problematica quotidiana con la quale gli adolescenti di oggi si trovano a loro insaputa a dover convivere. Estorsioni, video pornografici, cyberbullismo, violenza di genere, sessuale, sentimentale. In rete al giorno d'oggi circola di tutto e di più e proprio per questo il lavoro di Stiulpe e Unicef, da 7 anni a sta parte, è rivolto alle scuole con una serie di incontri volti a sensibilizzare chi in età sempre più tenera entra in contatto con la sfera digitale. È una vera e propria emergenza nazionale, così viene ormai definita da tutti gli esperti del settore. Ho circa 7 anni che giro tutte le scuole, ogni ordine grado, che incontro i genitori proprio per sensibilizzare sia gli adolescenti sia i loro genitori dei pericoli del web e dei pericoli che possono derivare da una errata gestione dei social e della rete. Ci possono essere delle gravi conseguenze sia di ordine penale che di ordine civile, ma soprattutto, e questo è un trend che purtroppo dimostra dei numeri in forte aumento, un ragazzo su 10 vittima di cyberbullismo tenta il suicidio. È un'emergenza veramente nazionale perché purtroppo i genitori non si rendono conto, spesso lasciano i loro figli libri di navigare in rete, gestire i social senza nessun controllo, e non si rendono conto quello che loro fanno, che fanno i loro figli. In che territori vanno? In territori veramente pericolosi. La maggior parte degli adolescenti già a 9-10 anni hanno il cellulare, hanno il cellulare e spesso sono lì senza nessun filtro, senza nessun sistema di parental control e sono quindi liberi di navigare. Guardate, un solo esempio, le ultime statistiche dicono che l'80% degli adolescenti è entrato in contatto con dei siti pornografici, molte volte con dei contenuti molto violenti. Ci sono gruppi di WhatsApp dove sono state poi veramente portate a termine le importanti azioni di polizia, di investigazione della polizia postale. gruppi di WhatsApp dove c'erano, per dire, 432 adolescenti che si scambiavano video di bambini, bambini di 3-4 anni violentati, di donne violentati, di animali serviziati. Immaginate che già queste sono immagini che per un adulto sono raccapriccianti. Immaginate per un bambino, un ragazzino di 12-13 anni, che in un'età in cui la sua mente non è ancora strutturata, viene a contatto con immagini di questo tipo. Gli effetti sono devastanti. Sempre più frequente il ricorso allo psicologo, una terapia in rapida scesa a seguito soprattutto degli effetti collaterali della pandemia. Il lockdown ha accelerato inevitabilmente il processo di isolamento sociale, favorendo l'immersione delle adolescenti nelle profondità oscure dei social network. È un'occasione questa di confronto appunto con gli esperti, ci servirà insomma per rendere consapevoli i genitori di quelli che possono essere i rischi. Non è un'azione di terrorismo ma un'azione di formazione e di prevenzione. Quindi ci auguriamo che già dalla prima puntata di questa serie di incontri che stiamo mettendo in campo ci sia partecipazione e che possa servire anche a salvare solo un ragazzo.